Ciao ragazzi del vostro schizzo, oggi siamo con un nuovo video oggi siamo qui per agire all'album di Mace Maya lui penso che faccia solo il produttore il che produce l'album non canterà però lo scopriremo andiamo con la prima traccia che è Viaggio contro la paura featuring Jamie Tights e John Tale l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Mace Viaggio contro la paura featuring Jamie Tights e John Tale ragazzi io li do non mi è piaciuta li do 5 andiamo alla seconda traccia che è Ruggine featuring Chiello e Coetz l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Mace Ruggine featuring Chiello e Coetz meglio di quell'altra però si becca solo la sufficienza gli diamo un bel 6 andiamo alla terza traccia che è Meteore featuring 100.000 carie e Jamie Tights e Easy l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Mace Meteore featuring 100.000 carie Jamie Tights e Easy devo dire che mi è piaciuta di Don Bell 7 andiamo alla traccia numero 4 che è tutto fuori controllo featuring Franco 126 Easy e Kid Uuuu Easy e Kid Yugi ragazzi nella stessa canzone l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso prima di partire con la canzone Kid Yugi scusate ma Kid Yugi ma Easy tornato in grande stile con Meteore mi è piaciuto soprattutto anche soprattutto anche la sua fan direi di andare dentro con tutto fuori controllo featuring Franco 126 Easy e Kid Yugi me Mace tutto fuori controllo featuring Franco 126 Easy e Kid Yugi 8 ragazzi mi è piaciuta tantissimo spaziali Easy e Kid Yugi anche Franco 126 bellissima gli Don Bell 8 andiamo alla traccia numero 5 mentre il mondo esplode featuring Elea che e Marco Castello non so cosa vuol dire featuring Elea che e Marco Castello però direi che l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Mace mentre il mondo esplode featuring scusate mentre il mondo esplode featuring Elea e Marco Castello gli do 6 comunque base è sempre bellina molto bravi a cantare tutte e due però non non mi non mi racconta nulla la mia canzone comunque un strade ci sta è la sufficienza andiamo con la traccia numero 6 la guerra featuring fra quintale e versus l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Mace la guerra featuring fra quintale e versus la stessa identica cosa per la stessa identica cosa che ho detto per mentre il mondo esplode uguale l'attica io sempre questa comunque le basi sono belline loro sono bravi ma la canzone non mi dice nulla andiamo alla traccia numero 7 solo un uomo fit Altea l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso Mace Mace scusate solo un uomo fit Altea no no 5 straz uno straz uno straz andiamo alla traccia numero 8 praise the lord featuring gue noiz narcos e toni boy non lo voglio dire mi aspetto un pochino più movimentato rispetto almeno a solo un uomo rispetto a a quello vi prego un pochino più movimentato l'ascolto e poi vi dico se ne penso prize Mace prize the lord featuring gue noiz narcos e toni boy mi è piaciuta di dombella 7 andiamo alla traccia numero 9 scusate numero 9 fuoco di paglia ho perso scusate fuoco di paglia featuring fra quintale geminites e marco mengoni vediamo l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso marco mengoni non mi piace mace fuoco di paglia featuring fra quintale geminites e marco mengoni ragazzi non mi è piaciuta di do 5 andiamo alla traccia numero 10 nuovo me featuring brash laco e rcomi l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso mace nuovo me featuring lo penso scusate nuovo me featuring brash laco e rcomi li do 6 mi è piaciuta mi è piaciuta alcune pezze alcune pezze no gli diamo un bel 6 andiamo alla traccia numero 11 non mi riconosco featuring centomila carie che è tornata l'altra volta ed salmo l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso mace non mi riconosco più featuring centomila carie e salmo non mi è piaciuta di do 5 andiamo alla traccia numero 12 mai più featuring fabri fibra fulminacci e vince rapper tra parentesi l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso mace mai più featuring fabri fibra fulminacci e beans gli do 6 gli do 6 andiamo alla traccia la quart'ultima traccia la numero 13 lumere lumiere scusate featuring digital astro ernia easy e toniboy potrebbe essere una traccia molto molto interessante l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso mace lumiere featuring digital astro ernia easy e toniboy mi è piaciuta devo dire l'idombel 7 andiamo con la terza ultima traccia che è ossigeno featuring versus l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso mace ossigeno ossigeno featuring versus ragazzi no gli do un 5 ora andiamo con la penultima traccia che in realtà sarebbe l'ultima perché l'ultima vera traccia la traccia numero 16 sarebbe il velo di maya ma è non è solo una strumentale cioè è solo base e due 8 minuti e 8 non ho intenzione di ascoltarmi 8 minuti e 8 di base nel cervello schiena andiamo con la traccia numero 15 che sarà l'ultima traccia strano deserto featuring l'ultima traccia che ascolteremo strano deserto featuring cosmo e raes l'ascolto poi vi dico cosa ne penso della traccia e facciamo una considerazione finale anche sull'album mace strano deserto featuring cosmo e rare rare mi do 5 allora parliamo dal presupposto che non è un album che fa per me perché troppo troppo a me piace il rap un po' più movimentale queste canzoni mi hanno mi hanno annoiato devo dire alcune molto belle tipo tutto fuori controllo oppure quella con gue non è male quella con di salastro alcune sono bellene ma altre per l'amor del cielo no allora detto questo spero il video vi sia piaciuto ditemi voi qual è la vostra canzone preferite l'album la vostra canzone la canzone preferite l'album è la canzone che non vi piace l'album io non sono un critico musicale sicché giudico in casa i miei gusti musicali ci teneva a dirlo noi ci vediamo un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao